Lazzagamers E uscirà un video di non avevo Vi faccio vedere la sigla se volete Ma l'hanno già visto Dai, mettila A parte che tanto adesso verrà nel video Guardate qui la scritta Guardatela No, io sono qui Io sono qui Avete visto qui la scritta Questo è il primissimo video Quindi buona visione Scappiamo da nonna Granny Sì, sono morto E ho quasi completato l'elicottero Sì, però sei al quarto giorno Adesso, mannaggia Allora, la benzina l'hai messa Poi, la chiave La chiave l'abbiamo presa No, no, no No, no Andre, Andre No, no, no No, no, no Dime che l'ultimo giorno no Cavolo, avevamo l'elicottero pronto No Non è riuscito a sparare di tempo Ma dovevi scappare Non siamo riusciti a sparare Quinto di nuovo Abbiamo l'elicottero pronto Con già anche il filo di benzina Dai Cos'è che dobbiamo cercare Solo lo scotch per riusciti a sparare Sì, lo scotch per l'elicottero Andre, prende il fucile Oh, quando è il quinto giorno Avete visto quanto sangue c'è intorno alla telecamera? Perché ormai Questa cosa può morire Ce l'hai, i proiettili? Sì, ce li ho Secondo me, prima di metterti Sì, cerchiamo lo scotch Però, secondo me Cerca il nonno Cioè, sparagli Così almeno sei un attimo più tranquillo Oh, ma lo scotch non era questo Ma io lo so dov'è lo scotch Allora, vado a prendere Ma è qui Era qui nella stanza Ma ascolta, Andre, sparagli prima mia Qui, no? Ah, eccolo E' anche il fucile Così, Andre Va bene, ma tanto ci metto in fretta E qui la stanza Dai, 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 dai Noi, tenere qui Dai Ok Qui l'ho completato, eh, ragazzi Infatti abbiamo preso tre pezzi del dipinto Che ci abbiamo messo una fatica Qui l'ho fatto Qui abbiamo già sparato E qui c'è l'elicottero Ecco l'elicottero Ecco, ma sì Alan ci chiedeva Alan ci chiedeva molto di scappare Noi scappiamo Ecco, poi, premia chiave La chiave No, la fine l'abbiamo messo Sì, no, l'avevate buttata Dove? Per terra Eccola lì, ecco lì, è vero Ok, ma male Però lo monti sto pezzo Dai, dai Ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta Dai Dai Ok Dai Oh, è la prima volta che vedo finalmente Guarda Che ci allontaniamo dalla casa No, nonno non c'è C'è solo il nonno Lo puoi vestire mentre andiamo via Eh, no Nonno No, segui da adesso Però, sono fai Finito Mi sono fatta, Andre Ok, ecco ragazzi Come si esce da nonno Stagni Si può uscire Della porta Ancora E non si può uscire Della porta Della porta Com'è? Dall'elicottero Dall'elicottero Com'è la barca Com'è la barca Nel prossimo episodio O usciremo nella barca O Nello bla 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 Dai, proviamo a uscire con la barca adesso Ma Dai C'è la mia pasta C'è la pasta No, 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 no C'è la propria pasta Finalmente Quello schifoso Scusate Ma Se lo merita Di dire questa cosa Perché è davvero Terribile Devo dire una cosa Io quando stavo registrando i video Però non li montavi Tu non li montavi Praticamente Io dicevo schifo 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 No, no Eh sì, davvero Brutto Ciao, papi Però ieri ho giocato con il telefono E' difficilissimo Con il telefono Con il computer E' così, così Perché con il computer C'è la freccina Con il computer E' difficilissimo Però non ce l'abbiamo anche fatta Perfetto Stamattina siamo tutti nel lettore Perché sta piovendo Siamo al mare Sennò sta piovendo Fuori Sì Dai Posso giocare io Ciao Ciao Io giocare io Ciao 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 Grazie a tutti